Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Bentornati! Il film di cui parliamo oggi è molto importante per ragioni diverse, ma soprattutto perché, al momento, risulta l'ultima apparizione cinematografica di Daniel Day-Lewis, il quale, dopo questo progetto, ha annunciato l'addio alle scene. Il film è Il filo nascosto. Ambientato nello scintillante mondo della moda degli anni 50, il film racconta la storia di un sarto molto ricercato, Raymond Woodcock, titolare di una casa di moda, che gestisce con profitto insieme alla sorella Cyril. La maison inglese è al centro della scena britannica, i capi di questo stilista di grido sono richiesti da tutti i notabili inglesi e non solo. L'uomo è dedito al lavoro e gestisce scrupolosamente ogni aspetto della sua vita con lo stesso approccio usato per gli abiti su misura. Non si concede troppo ai sentimenti, anzi, non lo fa proprio per niente. Pur amando la figura femminile che da sempre gli fornisce ispirazione, colleziona donne come fa con le stoffe degli abiti e non si affeziona a nessuna di queste. Tutto cambia quando incontra Alma, una giovane cameriera. Lo stilista ne rimane particolarmente colpito e dapprima le propone una collaborazione come modella, ma mano a mano che la frequentazione si sviluppa, la donna diventa addirittura la sua musa ispiratrice, con grande dispiacere della sorella del suo grande amore. La sorella non è però il solo grande ostacolo alla relazione, il problema è proprio lui. Stilista di chiara fama, abituato a stare al centro dell'attenzione e per questa ragione scostante, altezzoso, pungente. Quando la tensione tra i due sembra raggiungere il punto di non ritorno, Alma mette a segno il suo piano che farà vedere i suoi frutti con l'andare avanti della storia. Tu non sei condannato, sei amato da me. Smettila di fare questo gioco. Quale gioco? Qual è esattamente la natura del mio gioco? Tutte le tue regole, i tuoi vestiti, tutti questi soldi, è tutto un gioco. Paul Thomas Anderson, regista di grandi successi come Magnolia o Boogie Nights, che aveva già girato Il Petroliere con Daniel Day-Lewis, invece di tentare un affresco della moda del dopoguerra, si concentra maggiormente sulla dinamica psicologica dei protagonisti di questa storia, sull'uso del corpo e degli sguardi dei bravissimi attori, costruendo attorno a loro una realtà scenica curata in ogni particolare. Infatti, molti dei personaggi che appaiono nel film non sono attori professionisti, ma sarti o costumisti esperti che hanno prestato le loro abilità al servizio del racconto. Il filo nascosto è disponibile su Team Vision, Google Play Film, Apple TV, Prime Video. Fazzoletti, 4 su 5. L'ispirazione al cinema di Hitchcock è così evidente da portare il pubblico a pensare che si tratti di una biografia invece che di un racconto completamente inventato dal regista. Buona visione!